Io ringrazio tutti voi che siete venuti, ringrazio per questa specie di Amarcord di tirambico, devo dire, fin troppo che appunto fa piombare nella nostalgia, ahimè, di un'epoca in cui il Partito Comunista era una realtà non solo molto grande ma molto vivace, io ne fui espulso, non è che me ne andai, me ne fui espulso perché all'epoca si usava espellere i dissidenti ma rimanevano poi dei legami e la rivista che dirigo oggi ha di nuovo un sottotitolo un po' diverso ma non troppo da quello di 30 anni fa per una sinistra illuminista perché sono sempre più convinto che è necessario essere a sinistra ma troppe volte la sinistra in tutte le sue componenti ha abbandonato il pensiero critico ma questo potrà essere l'argomento di un altro incontro. Democrazia e verità Da un po' di tempo si incappa costantemente nel richiamo alla post-verità ne parlano tutti i giornali, ne parlano tutti i siti da quando, poco tempo fa, l'Oxford Dictionary, cioè il dizionario più importante della lingua più importante del mondo che ogni anno fra le nuove parole sceglie la parola dell'anno ha scelto come parola dell'anno appunto post-truth, post-verità Dandone questa definizione aggettivo riferito a o che denota circostanza in cui i fatti oggettivi sono meno influenti nel formare l'opinione pubblica del rinvio alle emozioni e alle credenze personali e la motivazione per aver scelto questa parola come la parola dell'anno quindi la parola più significativa è che questo aggettivo ha conosciuto un picco nella frequenza nel contesto del referendum sull'Europa in Gran Bretagna e nell'elezione presidenziale negli Stati Uniti se andiamo a vedere nel sito dell'Oxford Dictionary il riferimento alla parola dell'anno si fa vedere come uno dei testi principali che aveva richiamato l'attenzione del dizionario era stata una copertina dell'Economist che meno di un anno fa il 10 settembre del 2016 aveva come titolo arte della menzogna come occhiello politica della post-verità e come sommario di copertina diceva i politici o i politicanti politicians hanno sempre mentito ha una qualche importanza se ora lasciano la verità dietro di loro completamente cioè se se si se si liberano totalmente della verità visto che hanno sempre mentito ecco la domanda è proprio questa davvero questa parola post-verità merita di essere la parola dell'anno o siamo di fronte a un tradizionale scontro fra la menzogna che caratterizza il potere e la richiesta di verità che viene dai cittadini perché questo è lo scontro che ha sempre accompagnato la politica e ahimè anche la politica in ambito democratico fatti oggettivi contro menzogne del potere che ci sia qualcosa di nuovo è anche questo un dato empirico la motivazione faceva riferimento all'elezione di Trump in effetti è la prima elezione di un presidente degli Stati Uniti in cui non in cui il candidato mente i candidati hanno spessissimo mentito e anche i presidenti ma quando venivano colti in castagna prima erano guai in qualche modo addirittura ci furono dei casi in cui una menzogna scoperta costrinse l'uomo più potente del mondo il presidente degli Stati Uniti a dimettersi Richard Nixon fu costretto alle dimissioni per il caso Watergate e comunque l'intera amministrazione americana ai tempi della guerra del Vietnam entrò in una profondissima crisi con la famosa storia dei Pentagon Papers quando cioè un quotidiano americano svelò i documenti interni al Pentagono in cui il Pentagono riconosceva quello che stava avvenendo in Vietnam mentre la propaganda ufficiale e le dichiarazioni ufficiali del governo dicevano esattamente l'opposto con l'elezione di Trump è successo per la prima volta che un candidato presidente e poi un presidente perché ha continuato mente tranquillamente spudoratamente e addirittura si vanta di quello che dice al punto che un rappresentante di livello massimo del suo staff di fronte a un giornalista che faceva vedere il dato di fatto assolutamente incontestabile di una menzogna ha risposto che si trattava di che non erano falsi fatti che aveva detto Trump era dei fatti alternativi era una verità alternativa ora questo fa sorridere ma vuol dire siccome questo signore è stato eletto vuol dire che siamo passati dalla contrapposizione fra politica di potere che mente e cittadini in rivolta o comunque pieni di rabbia verso questo potere che vogliono controllarlo che alzano la bandiera della verità siamo arrivati a una situazione in cui una massa decisiva tant'è vero che vince vince anche per il sistema americano che è molto strampalato di elezioni perché a livello di voti in assoluto ha 3 milioni di voti in meno ma questo è un altro discorso ma comunque vince con quel sistema le persone che l'hanno portato al governo non sono più interessate alla questione della verità sembra che a livello di massa la questione della verità non sia più sentita come una questione cruciale quindi se per un verso dire che post verità è la parola dell'anno può sembrare un modo di fare il maquillage a una pratica che il potere ha sempre avuto e sarebbe meglio dire il potere mente come mentiva ieri come ahimè mentirà domani noi cittadini dobbiamo combattere la menzogna del potere in effetti il fatto nuovo è che questo sentimento non c'è più o comunque non è più il sentimento elementare si diceva fino a prima di Trump che negli Stati Uniti un presidente o un candidato che mentisse si faceva un autogol clamoroso ci furono non solo presidenti come Nixon che si dovettero dimettere ma candidati io ricordo no non ricordo più il nome ma era un candidato democratico aveva alle primarie aveva tutta la possibilità di vincere e probabilmente poi avrebbe vinto anche le elezioni siccome mentì su una relazione che aveva fatto che aveva avuto una relazione sentimentale che aveva avuto e bastò questa menzogna ad azzopparlo e d'altro canto in Francia dove evidentemente l'ondata della post-verità ha incominciato a lambire ma non ancora a fare irruzione in quella società quello che sulla carta era il candidato più forte sicuro presidente alcuni mesi fa cioè Fillon avendo continuato a mentire non ha perso tutti il suo sostegno e già questo indica che anche lì qualcosa è cambiato ma è stato escluso dal ballottaggio che cosa è avvenuto allora di nuovo è avvenuto che la menzogna del potere per sua natura è la menzogna di una struttura gerarchico privilegiata appunto è la menzogna del potere quelli che stanno in alto mentono noi cittadini combattiamo la menzogna del potere chiedendo verità è avvenuto che invece una massa sempre più grande di cittadini non sente più l'antagonismo verso il potere nella forma voglio la verità e tu menti ma non voglio più che tu abbia il privilegio della menzogna voglio poter mentire anch'io non se lo dice così se lo dice esattamente nella forma della portavoce di Trump anch'io ho diritto ad esprimere la mia verità alternativa è passata l'idea che non c'è più la verità e quindi non ci sono più i fatti ci sono le opinioni le verità alternative ciascuno ha la sua verità il web ha portato a questo trasformazione incredibile dell'opinione pubblica se voi a un qualsiasi cittadino chiedete se considera la menzogna una cosa accettabile dirà assolutamente di no dirà che il suo odio la sua rabbia verso il potere è perché tutti quelli che stanno al governo rubano e mentono cioè sono dei mascalzoni perché rubano e mentono queste sono le due cose che si imputano più immediatamente e però quello stesso cittadino che condanna il potere l'establishment e i giornaloni e perché mentono accetta tranquillamente delle menzogne assolutamente documentate perché se le andate a cercare lui stesso sul web come verità alternative le ha scelte lui ma non le controlla si accontenta di trovare nella rete delle narrazioni dei racconti delle storie delle che lo convincono ma lo scontro fra menzogna e verità non può essere uno scontro fra mi fido e non mi fido il mi fido o non mi fido del potere di un'opposizione di uno scienziato di uno storico deve essere basata sul controllo non su un'emozione oggi però nell'opinione pubblica l'idea che uno vale uno che è sacrosanta se riferita alla sovranità popolare cioè quando votiamo uno deve valere uno e in ogni altra circostanza politica l'ideale deve rimanere che uno vale uno ma di fronte a verità e menzogna non è vero che uno vale uno ciascuno vale diversamente dall'altro perché la verità non è qualcosa che si può mettere ai voti del resto credo che nessuno di noi accetterebbe se fosse imputato di un reato in tribunale nessuno di noi accetterebbe di essere giudicato con un criterio diverso da quello a cui ci siamo affezionati soprattutto vedendo i telefilm cioè si è colpevoli solo se il reato il tuo reato è stato dimostrato al di là di ogni ragionevole dubbio ma nessuno di noi si sentirebbe tranquillo come imputato se invece si potesse mettere ai voti la colpa o l'innocenza sulla base del mi piace non mi piace su questo torneremo perché in realtà vorrei farvi vedere come questo cambiamento dell'opinione pubblica ha una lunga storia in cui noi ci siamo a sue fatti pezzetto a pezzetto all'idea che invece la verità si possa mettere ai voti ma nessuno di noi accetterebbe tutti noi pretendiamo che un reato lo si dimostri al di là di ogni ragionevole dubbio perché altrimenti ne va della della nostra stessa incolumità e altrettanto pretendiamo in continuazione nella nostra vita quotidiana senza rendercene conto noi quando saliamo su un aereo pretendiamo che quell'aereo sia stato costruito tenendo conto di tutte le leggi scientifiche oggi conosciute e con tutti i controlli tecnici possibili per garantire che tutte quelle verità scientifiche siano state rispettate nessuno di noi salirebbe su un aereo sapendo che è stato costruito e controllato con la teoria delle verità alternative e però in molti altri ambiti quando si tratta dell'informazione quotidiana noi pensiamo che il controllo uno vale uno sia migliore maggiore del controllo tradizionale che ha il suo modello nei controlli incrociati di un'ipotesi scientifica ma che mutando quello che è necessario mutare adattandolo agli altri ambiti è in fondo l'ideale poi non la pratica purtroppo ma l'ideale dell'informazione vera del giornalismo era l'ideale del signor Palitzer che non a caso poi un grande editore a cui è intitolato il premio Palitzer proprio perché corrisponde a quell'ideale di giornalismo cioè il controllo dei fatti attraverso sì l'incrocio il controllo incrociato delle fonti ma attraverso anche una selezione gerarchica e piramidale per cui il primo che arriva non può dire la sua conta un grado di autorevolezza che venga certificato dalle conoscenze che quella persona ha di certe cose e ora è avvenuto nell'opinione pubblica una specie di slittamento da un ambito all'altro siccome in ambito politico è sacrosanto detestare la struttura gerarchico piramidale perché è la negazione della democrazia perché la democrazia è la sovranità uguale di tutti noi in realtà in ambito politico non riusciamo a raggiungerlo lo diciamo a parole ma poi ci accontentiamo di strutture gerarchiche vedremo o uguali e abbiamo come dislocato questo nostro bisogno di eguaglianza sacrosanto l'abbiamo dislocato in ambiti dove l'eguaglianza è impossibile ed è deleteria e e finisce per creare delle nuove forme ancora peggiori di oligarchia cioè nell'ambito delle della verità la verità scientifica innanzitutto noi abbiamo una grande ostilità verso la scienza c'è circola una grande ostilità verso la scienza naturalmente ci sono ambiti scientifici in cui accettiamo quello che ci dicono gli scienziati perché magari è affascinante e perché non ha a che fare con le nostre convinzioni personali di altro genere in fondo che ci sia il big bang o che la teoria della nascita dell'universo sia diversa è una cosa talmente lontana che ha così poco a che fare con la nostra vita quotidiana che finiamo per accettare anche se in realtà non capiamo esattamente che cosa sia implicato in questa teoria e così per la fisica quantistica è un fatto che a livello subatomico le leggi sono diverse da quelle che regolano invece la realtà in cui noi viviamo quotidianamente ma questo non riusciamo a capirlo fino in fondo ma ci fidiamo dello scienziato ma basta arrivare a un altro ambito della scienza la scienza biologica che è per sua natura ormai da un secolo e mezzo scienza darwiniana e oggi come oggi non ci può essere un biologo che non sia darwiniano che non sia evoluzionista certo ci sono apporti successivi a Darwin ovviamente fondamentali Darwin neanche immaginava il DNA ma l'evoluzionismo non è una teoria l'evoluzionismo è una una verità scientifica accertata eppure io ora non so vorrei leggervi la statistica esatta vediamo se ecco eppure in una indagine fatta dalla rivista Science dieci anni fa e probabilmente oggi le cose sono peggiori rispetto almeno in alcuni paesi rispetto a dieci anni fa veniva chiesto a un campione molto ampio di amplissimo in numerosi paesi se si riteneva la teoria dell'evoluzionismo in contrapposizione alla teoria creazionista se la si riteneva assolutamente certa probabilmente vera assolutamente vera ora il dato oggettivo fattuale scientifico è che l'evoluzionismo è assolutamente vero esattamente come il fatto che in ambito non subatomico ma atomico vale la legge di Newton con le correzioni che per la nostra vita quotidiana sono insignificanti della teoria di Einstein eppure dieci anni fa e oggi le cose non sono migliorate era considerata negli Stati Uniti assolutamente falsa dal 32% degli americani probabilmente falsa dall'8% siamo già al 40% che la ritiene falsa dubbia dal 24% siamo già al 64% probabilmente certa dal 23% e un misero 13% la considerava assolutamente certa mentre è assolutamente certa e in Francia il paese dell'illuminismo le cose andavano un po' meglio ma non tanto meglio perché a ritenerla certa era poco meno del 40% e un altro 40% probabile quindi quelli che la ritenevano o incerta o falsa o assolutamente falsa erano una quota consistente superiore a un quarto a un quarto e un terzo in Italia un italiano su quattro la ritiene certa un italiano su quattro naturalmente fra voi la percentuale spero che sarà del 99% ma se voi andate in giro entrate in un supermercato o in qualsiasi altro luogo pubblico dovete sapere che c'è solo una persona su quattro che ritiene l'evoluzione è una teoria vera un 41% che la ritiene probabile un 9% che la ritiene assolutamente falsa e un 10% probabilmente falsa cioè a ritenerla proprio falsa sono uno su cinque delle persone che incontrate e poi il 14% la ritiene incerta e la anche paesi come l'Olanda patria di tutte le eresie fin dal 600 aveva cifre analoghe questo per dire che che quindi a livello della anche delle verità scientifiche noi preferiamo credere a ciò che ci tranquillizza o che è in sintonia con altre nostre convinzioni ma andiamo in un ambito dove l'elemento scientifico è comunque preponderante anche se c'è un margine statistico più fluido una cosa di cui si è discusso molto di recente i vaccini esistono studi sia sui vaccini in sé sia studi epidemiologici cioè statistici su vasta scala su cosa si ottiene con un vaccino e i rischi di un vaccino che sono assolutamente accertati eppure una quantità notevole di persone si rapporta alla questione dei vaccini non andandosi a informare e a informare alle fonti scientificamente affidabili ma si affida a quella mondo dove apparentemente uno vale uno che è la rete e dove se a livello di opinioni in quanto tali va benissimo che uno valga uno a livello di verità e menzogna verità e falsità ovviamente che uno valga uno è un'assurdità perché il funzionamento del vaccino e il pericolo del vaccino non può essere affidato al nostro sentimento o alle persone di cui noi ci fidiamo perché poi l'idea che il controllo tramite il web tramite la rete sia un controllo migliore rispetto ad altre forme di controllo nasce solo dal fatto che noi pensiamo che se la pluralità per esempio delle fonti è data da dieci giornali in fondo sono dieci persone che controllano quei dieci giornali che possono controllare quindi se si mettono d'accordo mentono mentre invece alcuni miliardi di persone sul web i controlli incrociati sono molti di più sono molti di più ma nessuno di noi prima di farsi una propria idea va a controllare tutti i siti del web in funzione su quell'argomento stamattina in una in una lezione che ha fatto su questo tema del web Piero Bianucci ricordava che ormai ci sono sette miliardi di iscritti Facebook e ci sono non so quanti miliardi di siti ma ovviamente quando poi si va a cercare di farsi la propria opinione su una questione di verità e falsità ciascuno di noi raramente va a utilizzare le dieci fonti tra loro diverse che quando un tempo si prendevano tutti i giornali per metterli a confronto si poteva fare va a vedere due o tre dei suoi amici Facebook e in questo modo noi non abbiamo un controllo neanche maggiore in termini quantitativi e meno che mai un controllo più sicuro noi ci stiamo assuefacendo all'idea senza rendercene conto che non esiste verità e menzogna non esiste il fatto e la negazione del fatto esistono verità alternative esistono fatti alternativi noi senza volerlo pensando anzi di avere democratizzato qualcosa e quindi di aver messo in pericolo il monopolio della menzogna che aveva il potere siccome anziché contrapporre alla menzogna la verità abbiamo contrapposto alla gerarchia della menzogna la democratizzazione delle verità alternative abbiamo regalato al parossismo della menzogna come appunto per esempio Trump rispetto agli altri precedenti presidenti degli Stati Uniti che pure mentivano gli abbiamo regalato il brodo di cultura che gli permette molto più facilmente di vincere e che permette al mondo in cui stiamo e quindi a tutti noi di essere più facilmente preda della menzogna e della manipolazione perché non ci affidiamo più per il controllo della verità a una struttura a vari livelli quindi gerarchica di selezione e controllo incrociato ma ci affidiamo all'idea dell'eguaglianza e l'idea dell'eguaglianza di fronte alla verità in politica mentre ha un senso in politica di fronte alla questione della verità è la più assurda delle cose che consente al manipolatore più abile della verità di spacciare la sua menzogna per verità perché e questo purtroppo comincia a creare problemi anche a livello strettamente scientifico fino ad oggi anzi fino a tre quattro cinque anni fa dieci come avveniva il controllo in ambito scientifico esistevano le riviste scientifiche ce n'erano alcune la cui autorevolezza era assoluta ed erano quelle tre o quattro in ogni ambito dell'inoscenza ce n'erano altre più locali legate ad altre università ma ugualmente molto affidabili ed erano in ogni ambito alcune decine ma non di più chi aveva svolto una ricerca scientifica con tutti i dati degli esperimenti eccetera scriveva un resoconto di questa sua ricerca e la proponeva a una di queste riviste queste riviste avevano una serie di lettori che leggevano tutti e davano la loro valutazione e così via poi una volta pubblicato in genere era molto difficile che una ricerca nell'ambito delle scienze una ricerca diciamo così taroccata come si dice oggi con il linguaggio giovanile passasse ma nei casi rarissimi in cui poi passava intanto le persone i responsabili dei giornali i lettori che l'avevano fatto passare avevano la loro carriera rovinata quindi ci pensavano molte volte prima e poi quella stessa testo quella stessa ipotesi scientifica passava al vaglio di tutta il resto della comunità scientifica e quindi quello stesso esperimento veniva ripetuto e se non funzionava qualcuno pubblicava il fatto che non aveva funzionato eccetera questa struttura se voi volete assolutamente piramidale gerarchica e selettiva diversi garantiva la affidabilità del risultato e così è andata avanti la scienza il e ci sono stati perché chi imbrogliava pagava dei prezzi altissimi chi sbagliava pagava dei prezzi altissimi c'è stato un caso alcuni anni fa di un neurobiologo che faceva ricerche in una delle più prestigiose università americane Heuser si era dedicato a analizzare con indagini scientifiche sperimentali continue l'origine di una serie di valori etici così come possono nascere attraverso l'evoluzione del cervello umano e quello che oggi ci possono dire le neuroimmagine e così via era una persona che aveva fatto delle ricerche importantissime assolutamente riconosciute era una delle massime autorità ancora oggi in quasi tutti i libri trovate sull'argomento trovate citati alcuni suoi lavori che hanno fatto epoca questa persona una volta aveva avanzato un'ipotesi e siccome non tutti i dati delle ricerche poi in laboratorio corroboravano queste ipotesi ha accomodato alcuni di questi dati poca roba ma per fare in modo che quello che in realtà era ancora un'ipotesi ancora discutibile potesse passare per qualche cosa di corroborato erano tipi di indagini non facili da fare per cui sono state ripetute a distanza di anni e hanno fatto emergere delle incertezze insomma ve la faccio breve alla fine questo signore è stato smascherato ha dovuto ammettere che ha cercato delle giustificazioni ha detto che in fondo aveva accomodato pochissimi dati che era certo che ulteriori indagini avrebbero garantito questa persona è stata cacciata dall'università nessuno pubblica più nulla di suo è stata per lui la morte civile se non c'è un rischio di questo genere quando si dice il falso o per errore o per manipolazione dei dati viene meno la possibilità dei controlli incrociati e oggi incomincia a diventare difficile più difficile per fortuna ancora non impossibile più difficile nell'ambito della scienza perché sono nate centinaia forse migliaia in questo momento di riviste scientifiche sul web che quindi non hanno più quei sono molte di più ma proprio perché sono molte di più sono molto meno controllabili e la probabilità di scoprire chi imbroglia diminuisce con la moltiplicazione di queste riviste e il rischio per chi venisse scoperto diminuisce a sua volta ora in ambito politico noi dobbiamo tener fermo l'assoluto diritto alla libera opinione ma dovremmo accompagnare questo assoluto diritto anche con la rivendicazione che dovremmo fare noi stessi in quanto cittadini che teniamo la nostra libera opinione al dovere di tutti verso la libertà verso la verità libertà e verità non possono essere in contrapposizione se noi accettiamo anche solo per un momento che non debbano fare corpo unico noi ci illudiamo di avere maggiore potere perché ci arroghiamo il diritto di dire la nostra su tutto anche su ciò di cui non sappiamo nulla e pretendiamo che l'esperto quello che davvero ha i titoli per essere esperto debba valere quanto noi ma in questo modo noi stiamo minando alle radici la possibilità stessa della nostra libera opinione c'è una citazione di Anna Arendt che io voglio riportare sempre perché è di oltre mezzo secolo fa e che diceva la libertà di opinione diviene una farsa se l'informazione fattuale e ogni volta che l'informazione fattuale non è garantita e i fatti stessi vengono messi in discussione cioè noi ci illudiamo di esercitare la libertà di opinione se non siamo altrettanto rigorosi nell'esigere il rispetto delle verità di fatto vi faccio un esempio clamoroso da cui però non si sono da cui però gli innamorati del web non hanno tratto le giuste conseguenze alcuni anni fa ormai qualche decennio fa un presidente americano invase scatenò una guerra dei bombardamenti a tappeto sostenendo che quel paese in quel paese ormai esistevano erano state realizzate armi di distruzioni di massa e fece la sua campagna per la rielezione sostenendo che esistevano queste armi di distruzioni di massa e i cittadini che evidentemente in maggioranza pensavano questa è una libera opinione che se c'era un paese che aveva armi di distruzioni di massa bisognava colpirlo e preferivano per questo un presidente disposto a colpire che non un presidente che dicesse aspettiamo stiamo a vedere siamo cauti la libera opinione di chi voleva una politica dura è davvero una libera opinione a patto però che i dati di fatto siano quelli si scoprì poi che le armi di distruzione di massa non c'erano affatto in quel paese e quindi in realtà i cittadini che votarono per quel presidente furono espropriati della loro libertà di opinione e di scelta perché non avrebbero probabilmente non avrebbero votato quel presidente se non ci fossero state le armi di distruzione in massa perché avrebbero preferito un presidente con una politica estera diversa di fronte a un pericolo molto minore questa è un'illustrazione piena della tesi che Ann Arendt aveva scritto decenni prima che la libertà d'opinione diventa una farsa a meno che non sia garantita la verità dei dati di fatto noi veniamo espropriati della nostra libertà di scelta politica di scegliere chi ci rappresenta di scegliere una politica rispetto a un'altra proprio se non è garantito il rispetto dei fatti se anche i fatti diventano un'opinione la nostra opinione non ha più una materia consistente da cui nascere e su cui esercitarsi diventa un azzardo diventa una roulette noi scegliamo sulla base delle manipolazioni che ci siamo state che ci sono state offerte quindi ci illudiamo di decidere noi chi è più abile a manipolare i fatti sta manipolando e determinando la nostra opinione chiudo rapidamente perché poi spero che la seconda parte a partire dalle vostre domande sarà la più interessante perché mi direte quali sono i punti che non convincono o i punti che non ho toccato che ritenete importanti ma ecco noi dobbiamo renderci conto che proprio se vogliamo avere quel barlume di sovranità uguale perché è un barlume che però le costituzioni in teoria ancora ci affidano per un verso dobbiamo combattere tutte le forme che a livello politico riducono o tendono ad annullare la nostra sovranità di cittadini ma dobbiamo essere consapevoli che parte di questo nasce anche dalla debolezza con cui rivendicheremo il dispotismo dei fatti noi dobbiamo pretendere che le verità di fatto non possano essere messe in discussione i fatti le realtà di fatto è vero che sono dispotiche ma il dispotismo delle realtà di fatto è il nostro alleato nella libertà di scelta se noi non pretendiamo da parte di tutti il rispetto dei fatti e quindi per esempio non pretendiamo non ci viene spontaneo di dire che chi è colto nell'aver mentito sui fatti deve essere escluso dalla vita pubblica subito noi di fronte a una persona che in televisione dice una menzogna e che poi questa menzogna viene scoperta viene reinvitato la volta dopo noi dovremmo avere una tale rabbia da dire quella trasmissione non la guardo più cioè noi dovremmo avere delle reazioni di fronte alla lesioni fatte alle verità di fatto come se in quel momento ci stessero amputando un pezzo della nostra libertà di avere la nostra opinione di decidere perché le due cose vanno insieme noi invece a tutto questo ci siamo abituati progressivamente a rinunciare perché ci siamo assuefatti alle varie tappe in cui il confine fra fatto ed opinione si è scolorito fino ad essere cancellato ma di questo si potrebbero fare tanti esempi che ora non faccio non ho tempo di fare magari farò dopo in cui noi senza rendercene conto siamo stati conniventi abbiamo accettato che i fatti venissero trattati come opinioni e non abbiamo capito che in questo modo perdevamo ulteriormente quelle già briciole di sovranità che ancora abbiamo quindi se vogliamo tornare a rivendicare un nostro peso maggiore come cittadini nella vita pubblica dobbiamo esigere un peso molto maggiore delle verità di fatto nella vita pubblica e quindi di quelle forme di controllo che sono inevitabilmente selettive e gerarchiche delle verità di fatto grazie grazie al professor Paolo Flores d'Arcais per la sua lezio magistralis tanto stimolante è così bella abbiamo circa venti minuti per il dibattito come si fa in questi casi visto che ho in mano io il microfono rompo io il ghiaccio con una domanda e poi sono certo che alcuni di voi potranno rivolgersi avranno piacere di rivolgersi al professor Flores d'Arcais siamo d'accordo di mettere insieme cinque o sei domande e poi il professore risponderà a tutte quante insieme la mia domanda è questa parto da un tema che lei ha toccato più volte nel suo intervento il rapporto tra la democrazia è probabilmente una delle più importanti rivoluzioni che ci sono state negli ultimi tempi e mi riferisco ad internet perché da una parte internet e la rete informatica e i media sicuramente favoriscono l'informazione favoriscono una partecipazione mettendo anche a disposizione dei nuovi strumenti di partecipazione democratica favoriscono la diffusione di contenuti culturali immagino alla musica al cinema ma dall'altra parte falsificano e lei su questo ha fatto numerosi esempi occorrono il rischio di falsificare fonti scientifiche che sono poi centrali anche nella costruzione del discorso e dell'opinione pubblica allora la mia domanda cercando di portare alle estreme conseguenze il suo ragionamento è qual è secondo lei il rapporto tra internet e democrazia e se internet può costituire una risorsa per la democrazia o se rischia di esserne invece un pericolo democratico ci ho detto invito chiunque avesse una curiosità una domanda una riflessione da fare di porla al professor Flores d'Arcais c'è un microfono in sala sicuramente ci sono anche molte altre mani che si sono alzate qui c'è la ragazza di sala che ha il microfono e che può portarlo qui c'è un signore sto già facendo una domanda chiunque intervenga per favore inizi con il nome e si qualifichi grazie Giovanni Cristofaro vorrei chiedere ma perché siamo conniventi cosa ha provocato la nostra connivenza stavo pensando ad esempio al fatto che adesso ci si è abituati a dire forse è troppo distante faccio un po' fatica a parlare si sente benissimo che tutto è successo a nostra insaputa quindi mi chiedo cosa c'è dietro a questa difficoltà a vederla la verità forse ognuno di noi è portatore di una propria verità e deve confrontarsi con la verità altrui in qualche modo confrontarsi con l'altro nella relazione mette in discussione la nostra identità e questo può in qualche modo motivare questa difficoltà a vederla una verità oggettiva o forse è legata al dolore di vedere una verità molto triste come può essere successo nell'Italia negli ultimi quarant'anni e quindi quello che è successo diciamo in Italia è difficile da digerire e da vedere nella sua realtà e quanto questo diciamo può condizionare il nostro futuro il fatto diciamo di non conoscere la nostra verità passata ci impedisce di progettare un futuro un'altra domanda c'è una mano alzata qui davanti diverse mani volevo dire che ho trovato giustissimo che la mancanza di verità diminuisce la nostra libertà di scelta ma mentre in certi casi è veramente accertabile quello che lei dice se riferiamo alla legge di gravità non c'è dubbio credo per nessuno quando alcuni pretendono che la Shoah non sia verità direi che anche lì andiamo fuori fuori di testa ma l'interpretazione dei fatti sia politici che di ogni tipo alle volte è veramente ha delle sfaccettature molto difficili e non è un caso che i giornali anche in Italia un giornale di un tipo presenta la verità presenta la sua verità in un certo modo e un altro giornale la presenta in modo diverso ora secondo me desidererei se lei dà maggiore chiarezza sul dire come possiamo interpretare la verità di questi fenomeni grazie grazie mi chiamo Maria Rita Cacchione non è la singola donna e il singolo uomo che può arrivare a identificare la verità dei fatti è che noi in passato abbiamo avuto strumenti più sicuri non sempre chiari a volte anche confusi per avere un confronto sull'analisi dei fatti parlo della vitalità che avevano i partiti fino ad un certo punto io non credo che un individuo da sola un individuo da solo possa abbia la forza per discernere la verità dei fatti perché nel cammino entrano in campo le fragilità individuali quella voglia che si ha a volte di essere conniventi di quell'incapacità di essere antagonisti quando si è uno di fronte ai fatti e forse dovremmo per garantire la democrazia la verità dei fatti e la libertà lavorare di più su come costruire nuove relazioni che magari non somigliano ai partiti del passato ma che per la verità dei fatti possano essere una garanzia maggiore grazie ci sono altre domande c'è qui una mano alzata in seconda fila valeria pasqualoni volevo domandare questo concetto della verità e dei fatti applicato a i nativi digitali e cioè in particolare perché io lavoro con gli adolescenti psichiatria eccetera eccetera e lo sfuggire del senso di realtà all'interno del virtuale che però non è solamente il virtuale come informazione è proprio come vivere all'interno della rete e quindi mi veniva in mente per esempio io stessa ho votato alle primarie del PD effettivamente sono andata lì ho preso una scheda ho dato poi è successo che invece ho espresso delle opinioni per il movimento 5 stelle tramite per esempio internet no? allora è un fatto entrambi sono fatti no? però la seconda sembrava un'opinione ed è quello un po' che succede nei ragazzi per esempio che eh vivono per esempio il cyberbullismo no? dove c'è per esempio l'aggressività in rete è un fatto perché prima l'aggressività poteva essere quella espressa per esempio eh nelle strade no? adesso non so forse è un po' confuso però è piuttosto complessa questa cosa quindi il senso dell'opinione e del fatto invece vissuto in senso digitale però ci prende tantissime ore a noi adulti e pensiamo ai nativi digitali che ne passano tantissimi altri in più e diventa uno stile di vita proprio no? grazie se c'è ancora spazio per una domanda strancio Giampiero volevo chiedere posto che le persone prendono delle decisioni in base a delle euristiche di giudizio ehm volevo sapere come ehm quanto può essere utile nel nella proposizione politica cioè nel nel presentare una politica eh l'intervento delle scienze della matematica soprattutto della statistica che possono dare una certezza eh e una conformità a quanto viene a quanto viene espresso insomma dalla politica grazie eh mi fermerei qua in questo primo giro quantomeno per dare la parola al professore di rispondere abbiamo ancora una quindicina di minuti per le risposte io qui devo decidere se dare risposte confortanti o dare risposte di cui sono davvero convinto e mi spiace ma scelgo questa seconda strada che è assolutamente impopolare ehm la prima domanda se la democrazia se internet favorisca o metta a rischio la democrazia di solito per dare la risposta con la risposta falsa è favorisce la risposta confortante è per alcuni versi favorisce per alcuni versi è preoccupante che però la logica di Ponzio Pilato a cui vorrei sottrarmi io penso che internet peggiori la situazione per la democrazia esattamente come la televisione ha peggiorato la situazione per la democrazia e andando a ritroso la peggiora perché ehm facciamo prima un esempio a distanza di mezzo secolo e poi cerchiamo di vedere come ci si è arrivati io ero ragazzo quando per la prima volta in televisione nacque tribuna politica cioè i partiti che prima facevano la loro propaganda solo attraverso i comizi e i loro giornali e quindi ogni politico parlava solo ai suoi non c'era mai contraddittorio se volete sono forme di autismo di massa perché si parla solo in quel caso andavano a turno a esporre il loro programma di fronte a una dozzina quindicina di giornalisti estratti a sorte in cui c'erano anche le testate di partito per cui comunque qualcuno qualche tuo avversario c'era sempre fra ti facevano domande e tu dovevi rispondere e c'era anche un diritto di breve replica se non era convincente la risposta e in questo modo lo spettatore aveva di fronte diciamo dei protagonisti che se gli faceva comodo mentivano questo è chiaro facevano propaganda ma erano inevitabili le domande scomode e le domande scomode spesso erano semplicemente domande che inchiodavano il politico o a delle contraddizioni logiche lei ha detto questo ma poi ne ha concluso questo o ha una collisione con i fatti lei ha detto questo ma è successo quest'altro che smentisce la sua tesi e quindi in qualche modo lo spettatore che seguisse con attenzione e che considerasse i fatti e la logica una cosa importante diciamo lo spettatore incerto perché chi aveva già un rapporto fideistico con un partito c'era poco da fare ma il cittadino spettatore incerto aveva dei modi per farsi un'idea noi poi abbiamo con la televisione visto delle fasi successive in cui inizialmente avevamo le dirette che ci davano l'impressione di riportarci dei fatti dei fatti che prima non potevamo conoscere ora le potevamo controllare guardandoli direttamente non attraverso l'occhio del cronista o dell'inviato speciale e queste cose hanno avuto una loro enorme importanza se non ci fossero state una serie di riprese dirette di reportage televisivi in diretta è possibile che la guerra del Vietnam sarebbe andata in un altro modo gli Stati Uniti hanno avuto in sostanza la rivolta in casa oltre che lo scontro sul terreno con i Viet Cong perché i cittadini americani si sono resi conto che il potere mentiva e che mentisse l'hanno visto perché alcuni reporter rischiando la vita gli hanno documentato che che i bombardamenti c'erano c'erano davvero e colpivano indiscriminatamente le popolazioni civili il governo diceva di no ma lì c'erano le foto ce n'è una famosissima che è diventata un'incona la bambina nuda che scappa dietro c'è il bombardamento tutto in fuoco in fiamme per via del napalm e c'erano i filmati e questo la verità in quel momento contro la menzogna del potere ha avuto un impatto politico fondamentale il potere ne ha tratto subito una lezione sui terreni di guerra non ci devono essere più reporter che non siano embedded cioè che non siano inquadrati e quindi in qualche modo che era quello guardate che facevano i totalitarismi dell'est ai tempi di Stalin chi andava a visitare la Russia sovietica ai tempi di Stalin veniva trattato in un modo meraviglioso o chi ancora oggi va in Cina in parte ora le maglie si sono un po' allentate per motivi di commerci ma era costantemente controllato da quelli che ti dicevano che erano le guide che ti facevano vedere la realtà ma in realtà ti controllavano ti facevano vedere solo quello che volevano loro così oggi i governi che pure si sono sempre dichiarati antitotalitari eccetera hanno imparato quella lezione e la riapplicano nei settori dove ma non c'è stata solo l'azione dei governi a diminuire la possibilità di reportage c'è stato anche il fatto che la fiction il moltiplicarsi di fiction che trattavano di guerra di violenza e di delitti questi tre ambiti in cui di solito poi il potere vuole mettere la sordina alle dati di fatto per un verso sempre più realistico hanno fatto sì che nell'immaginario di chi è cresciuto fin da bambino con i telefilm violenza reale e violenza del film della fiction si siano sempre più mescolate per cui anche la violenza reale del reportage aveva un effetto inferiore che una cosa che noi abbiamo saputo più volte ci faccia un effetto decrescente questo già lo si era visto appunto ai tempi della guerra nel Vietnam quando la prima notizia del primo bombardamento del Vietnam riempiva le intere prime pagine di tutti i giornali in tutto il mondo il novantesimo bombardamento che naturalmente non aveva fatto meno morti del primo probabilmente di più era quando ancora c'era un trafiletto in quindicesima pagina a livello di un impatto non solo scritto ma audiovisivo l'effetto decrescente è ancora maggiore l'effetto di assuefazione è ancora maggiore in più sono arrivati i reality i reality sono quel format come si dice in cui programmaticamente realtà e spettacolo realtà e finzione sono la stessa cosa ti viene spacciato come il fatto che quella è la cosa più realistica che ci sia ma in realtà un conto è se in una situazione voi filmate di nascosto delle persone un conto è se queste persone sanno che sono filmate di autentico non c'è più nulla e tant'è vero che poi dopo si viene a sapere che le grandi linee di quello che deve accadere vengono definite da una specie di traccia di sceneggiatura e che semmai se non succede quello che il programmista ha stabilito che in genere devono succedere dei casini non succede poi si mette dall'esterno qualche elemento che lo faccia succedere e quindi abbiamo i reality abbiamo il passo successivo dei reality cioè le grandi discussioni in cui si tratta di questioni importantissime per la vita emotiva di ciascuno di noi esempio tipico le trasmissioni della signora De Filippi in cui se voi ci fate caso le accesissime discussioni che nascono prescindono totalmente dalla realtà dei fatti le persone si indignano dicendo tu mi hai fatto indignare io ho vissuto questo come una ferita quello che è il dato reale che ha provocato questo passa totalmente in seconda linea diventa fondamentale il sentire quello che io sento attraverso in politica è avvenuta la stessa cosa noi ci siamo a suoi fatti via via a questi strumenti e in politica è avvenuta via via la stessa cosa al confronto per argomenti che comunque ancora c'era nelle prime tribune politiche un minimo di confronti per argomenti quando si passa agli spot le campagne presidenziali americane vengono fatte a colpi di spot ciascuno è libero di inondare le televisioni quanti spot voglia basta che abbia i soldi per pagarlo e ovviamente poiché gli spot costano caro si fanno spot di 30 secondi non di più anche perché si sa che l'attenzione del teleutente è decrescente dopo un minuto e mezzo cala vistosamente ma cala secondo una curva molto pronunciata per cui si fanno degli spot dove l'argomentazione non c'è più dove ci deve essere qualche cosa che tocchi immediatamente l'emozione che stabilisca affetto per il candidato e odio per gli altri candidati e questo è l'elemento che conta il passaggio è stata la politica spettacolo la rielezione di Mitterrand il suo secondo mandato come disse poi il suo guru quello che gliel'aveva curata fu decisivo in quella furono decisivi centomila voti che si spostarono che che Mitterrand non avrebbe avuto e che spiegò il suo guru il suo guru erano stati ottenuti in realtà attraverso il fatto che aveva un difetto alla bocca e ai denti per cui il suo sorriso era un po' un ghigno gli fecero un grande dentista gli fece gli rimise a posto il sorriso in sostanza e questa ebbe un'influenza non so se davvero sia stata cruciale come sosteneva il suo guru il quale ovviamente parlava anche prodomo sua però è stato uno dei dei grandi nomi della del in questo mestiere certo che ha avuto un'influenza quindi noi abbiamo visto una abbiamo visto e siamo e abbiamo partecipato abbiamo convissuto abbiamo partecipato ci siamo a suoi fatti a tutti questi spostamenti per cui sempre meno abbiamo dato importanza ai fatti e sempre più alle emozioni sempre più la nostra e con internet che cosa avviene avviene che in teoria siamo alcuni miliardi in cui ciascuno è collegato con tutti gli altri suoi miliardi gli altri miliardi in teoria ma voi con quante persone voi che cioè chi frequenta io non so andare su facebook ma chi i giovani ci campano anzi mi dicono che facebook è superato ce ne sono alcuni più nuovi che anche passando svariate ore con quante persone entrano in contatto pochissime e selettivamente sempre più con i propri amici e gli amici poi si possono eliminare cioè non solo noi in realtà non abbiamo sulla rete contatti molto maggiori di quelli che avremmo con una vita reale ma quei contatti diventano sempre più autoreferenziali cioè si discute con chi la pensa come noi che è esattamente un modo per non discutere ci si confronta la parola io mi sono confrontato dilaga dilaga in modo devastante ma nessuno si confronta più con nessuno perché sostanzialmente ci si confronta con quelli che la pensano come te perché questo è confortante viene meno esattamente il confronto il bisogno di riconoscimento fa agio sul bisogno di dialogo nel senso vero del termine dialogo dialogos indicava che ci sono due logoi due argomentazioni che confliggono fra di loro e si comunica e si rimpallano noi invece preferiamo il conforto di sentirci riconosciuti dalle persone oppure il suo opposto poter odiare qualcuno e quindi o il like o se è un verme se gli insulti più ma l'argomentazione non c'è più quindi da questo punto di vista tutte queste fasi successive hanno resa più precaria la democrazia questa è la mia convinzione però chi ha una convinzione diversa ce ne sono tanti non mi ha mai dato degli argomenti e io stesso sono arrivato a questa conclusione facendo forza a me stesso perché mi veniva spontaneo di cercare tutti gli elementi per dire per convincermi che in realtà c'erano potenziali progressi internet è uno strumento fondamentale questo anche dal punto di vista democratico per la mobilitazione cioè per propagare un'idea di rivolta internet è straordinario prima se non avevi un'organizzazione non potevi puntare a creare un movimento di massa ora puoi è accaduto è accaduto più volte e alle volte anche cose che hanno avuto una grande importanza democratica ma la fase successiva che è quella della decisione collettiva è enormemente impoverita e se ciascuno di noi non è costretto a confrontarsi con le opinioni altrui siamo esattamente in quella situazione in cui il totalitarismo ci costringeva però sapevamo che eravamo costretti e quindi come dicevano miei amici dissidenti tanti decenni fa in Polonia e Russia dicono io riesco a informarmi benissimo basta che sulla Pravda legga lo spazio bianco fra una riga e l'altra e io attraverso quello che loro dicono so che grosso modo il contrario è la verità oggi invece siamo diventati noi totalitari di noi stessi perché ci confrontiamo fra virgolette solo con coloro che ci possono tranquillizzare gratificare ci illudiamo di essere protagonisti ma siamo protagonisti dentro una bolla ciascuno vive nella sua bolla la democrazia invece è confronto di opinioni è confronto di opinioni basato sui fatti ora perché siamo conniventi perché perché partecipiamo anche noi a questo a questo processo perché molto spesso alcune di queste fasi le abbiamo accettate le abbiamo anche promosse da un certo punto di vista e si capisce ed era anche magari giusto farlo io ricordo che ho partecipato molto attivamente al 68 e quella è l'epoca anche sull'ondata del 68 in cui sono nate le prime radio libere e poi le prime televisioni locali private libere noi eravamo convinti di fare una grande battaglia di libertà in realtà quando c'era solo la televisione di Stato si poteva fare la lotta contro le menzogne di quella televisione di Stato perché appunto attraverso giornali si denunciavano certe cose si facevano delle manifestazioni le varie radio libere poi televisioni libere inizialmente sono state fatte dai dei pionieri che l'hanno fatto per motivi di passione politica e passione per la verità e dopo un po' sono state tutte sono diventate parte di una realtà commerciale e quindi hanno dato vita ad altri monopoli ad altre menzogne ma menzogne di cui noi ci rendiamo sempre meno conto perché pensiamo di vivere in un pluralismo di queste televisivo non abbiamo saputo immaginarci degli siamo conniventi passivi perché non abbiamo saputo immaginarci degli anticorpi per esempio noi gli anticorpi e così rispondo indirettamente a tante alle altre domande gli anticorpi andrebbero coltivati fin non dalle scuole elementari dagli asili di infanzia l'ultima domanda era quanto può essere utile la scienza la matematica eccetera io sono convinto che se l'insegnamento della logica avvenisse fin dall'inizio della scolarizzazione fine dai 3-4 anni quando si va negli asili di infanzia ovviamente in ogni fase con gli strumenti adeguati a quella fase di sviluppo psichico ma che si crescesse con non l'idea con la pratica con la pratica e le emozioni che la logica è bello bene giusto e la contraddizione è male brutto cattivo ingiusto se si crescesse così noi ovviamente di fronte a qualsiasi contraddizione di un discorso ci indigneremmo ci sarebbero maggiori possibilità almeno se quindi la logica ma poi le verità scientifiche fossero assorbite via via fin da piccoli questo sicuramente aiuterebbe il premio Nobel signora Levi Montalcini aveva fatto un programma per l'insegnamento del darwinismo fin dalle scuole elementari ovviamente a seconda delle varie tappe l'insegnamento era diverso è rimasto carta straccia perché per un motivo molto semplice se ci sono quote di popolazione molto elevate che pensano che l'evoluzione che invece un bel giorno il mondo sia stato creato e che noi abbiamo una specificità così bizzarra rispetto alla scimmia per cui non moriremo mai perché abbiamo l'anima immortale voi capite che insegnare queste cose fin da bambini perché insegnare l'evoluzione significa insegnare questo che il mondo non è stato creato e che noi siamo delle scimmie modificate non insomma c'è una maggioranza che impedisce e però se noi vogliamo veramente avere la nostra particella di sovranità da adulti dovremmo batterci perché questo succeda fin dall'inizio nelle scuole dovremmo batterci perché siano proibite trasmissioni antiscientifiche per quale motivo deve esistere una trasmissione come Voyager no io lo dico sapendo che che Voyager piace molto di più e fa molte più audience che le trasmissioni scientifiche infatti è il sottotitolo è ai limiti della scienza qualcosa del genere no perché racconta cioè il mistero di ora se ci piace il mistero la scienza è il contrario del mistero la scienza è svelare costantemente misteri e riportarli alla nostra comprensione ma bisognerebbe combattere tutte le forme di mistificazione e superstizione che circolano ma a cui noi siamo noi ora non dico qui presenti ma a livello generale di massa siamo come homo sapiens incredibilmente affezionati per una serie di motivi che hanno origine proprio in come è stato selezionato il nostro cervello qui c'è uno dei tre autori di un libretto che tutti dovrebbero leggere che si intitola Nati per credere edito a Boringhieri oltretutto è anche piccolo che spiega come come il nostro cervello è stato selezionato fondamentalmente non per l'illuminismo per l'animismo ora io non voglio neanche provare a riassumere quelle cento e qualcosa pagine sono tutte da leggere e ogni riga è densa di cose ma se lo dovessi ridurre proprio in tre cose immaginate i nostri i nostri antecedenti antecessori i nostri che vivevano centomila anni fa cinquantamila anni fa facendo i cacciatori raccoglitori piccole tribù eccetera immaginate una di queste tribù di illuministi che pensano che se sentono un rumore probabilmente è una legge fisica che ha fatto cadere un ramo e una tribù di animisti che pensano che dietro ogni fenomeno fisico c'è un'entità buona o cattiva o buona e cattiva a seconda delle circostanze che fa avvenire tutto e l'animista sopravvive di più perché starà sempre sul chi vive pensando che ci possa essere o un nemico o una belva l'illuminista sopravvive di meno perché penserà che le probabilità che ci sia un nemico o una belva sono molto più basse e quindi sarà molto non so se l'esempio che ho fatto chiede all'autore è così assurdo o se spiega quindi noi siamo fatti per essere animisti per credere per credere a tutto ciò che ci fa comodo credere e noi a parole siamo tutti non razzisti ma quando si fanno i test avendo poi le scansioni di neuroimmagini e ci vengono mostrate delle foto e dobbiamo accoppiare queste foto a un giudizio oppure semplicemente vengono misurate chimicamente le nostre reazioni di paura di affetto di gioia eccetera il risultato è che tendenzialmente noi siamo razzisti perché il nostro cervello è fatto per vedere nel diverso da noi un potenziale nemico e quindi il diverso da noi è innanzitutto quello che è fisicamente diverso da noi poi quello che dal punto di vista auditivo è diverso da noi parla un'altra lingua e così via e quindi naturalmente noi siamo portati a essere razzisti siamo portati quindi a credere a tutti i pregiudizi che abbiano a che fare con il razzismo più in generale con tutte quelle forme di pararazzismo che sono la contrapposizione noi loro diamo fiducia a noi e diamo sfiducia a loro in tutte le versioni sul web poi finisce questo sul web ormai il web è tribalizzato in realtà sono infinite tribù ciascuna che sospetta dell'altra e che dà credito solo alla propria e siamo portati per motivi comprensibili a tutto ciò che ci rincuore e rafforza nelle nostre convinzioni per esempio sul ora è uscito un nuovo numero in micromega oggi ma quello che era in edicola fino a qualche giorno fa aveva un articolo di una psicanalista molto brava l'Argentieri che è anche una femminista e che però trattando proprio di questo aspetto diceva noi continuiamo a sentir parlare di femminicidio ma i dati di fatto che abbiamo è che non c'è nessun aumento di uccisioni da parti del convivente maschio rispetto alla convivente femmina i dati sono costanti da alcuni decenni il che non significa che non ci debba preoccupare la costanza di questi dati che sono dati alti ma se anche fossero un decimo ci dovrebbero preoccupare lo stesso ma noi ci siamo convinti che c'è un aumento del tasso di femminicidio perché questo rincuora la nostra sacrosanta scelta ideologico morale eccetera che va combattuto questa tendenza del maschio alla sopraffazione ma noi dovremmo sapere combattere la stessa battaglia riconoscendo però i dati di fatto per quello che sono perché altrimenti se noi ci autoconvinciamo che il problema è grave perché è in crescita intanto ne traiamo delle conseguenze pratiche sbagliate e poi avremo il maschilista che dirà sono le solite esagerazioni anche le donne sono altrettanto crudele degli uomini eccetera e a quel punto avrà i dati veri dalla sua e noi ci saremo dati la zappa sui piedi questo che vale quindi vale per tutta una serie io ho veramente debordato per cui chiudiamo qui ma per dire che quindi non è che noi dobbiamo cercare nuove relazioni per arrivare alla verità noi dobbiamo cercare di ristabilire i criteri imparziali del riconoscimento della verità sapendo che nell'ambito della scienza in qualche modo la comunità degli scienziati riesce a darseli poi lì c'è un elemento in più rispetto alla comunità degli scienziati che è l'esperimento che a un certo punto ti dice sì o ti dice no è questa realtà anonima ma che c'è che ti dice sì o no e che in tutti gli altri ambiti purtroppo alla fin fine siamo noi che decidiamo che cosa è vero e che cosa è falso e allora l'unico antidoto è costruire tutti gli strumenti a partire dai primi anni di vita per cui cresca una maggioranza di cittadini il più possibile vaccinata o meglio il più possibile con il patos della verità e della logica per cui uno si deve sentire ferito non cioè se quello del mio gruppo ha mentito la cosa mi deve fare ancora più rabbia non non mi deve spingere a giustificarlo e a difenderlo ma naturalmente nessuno lo fa questo perché lo farebbe se in tutti i gruppi agissero così allora l'unico modo è immaginare costruire pensare gli strumenti per tutte le età e gli strumenti di comunicazione che vaccinino per per il possibile mentre le relazioni invece sono basate sulle affinità sulle simpatie e quindi esattamente sul criterio opposto e e per i nativi digitali la cosa è ancora più tragica ovviamente perché quell'effetto per cui di de-responsabilizzazione per cui uno non percepisce più la differenza fra un atto di violenza reale e un atto di violenza che fa in un videogioco e appunto diventa una cosa con cui si cresce ora di fronte a tutte queste realtà verrebbe da dire proibiamole sappiamo che non è praticabile che non è praticabile né tecnicamente né psicologicamente perché se anche fosse praticabile poi diventerebbe il frutto proibito e sarebbe ancora peggio allora dobbiamo studiare gli antidoti qui dovrebbero sapendo che non saranno mai i politici interessati a realizzarli questi antidoti perché i politici con la credulità e con la superstizione anche se diventa di massa ci vanno a nozze ma se noi vogliamo essere cittadini anche minimamente sovrani dovremmo sapere che tanto più ci può essere democrazia in un paese quanto più c'è illuminismo di massa questa è la realtà e se non non puntiamo a quello noi avremo il principio di maggioranza ma il principio di maggioranza non è la democrazia il principio di maggioranza è una tecnica irrinunciabile della vita democratica ma non è da sola la democrazia grazie grazie